Guai a rinunciare alla porchetta durante la festa della Madonna della Libera Pratola Peligna, ma il rispetto della tradizione è costato caro un esercente del posto che è stato multato dai carabinieri per un importo di 400 euro per il mancato rispetto delle misure e disposizioni anti-covid. La sanzione amministrativa e la chiusura delle attività sono scattate nei giorni scorsi dopo i controlli effettuati dai militari della locale stazione nell'ambito delle operazioni per il rispetto delle misure anti-coronavirus. I carabinieri nel corso della normale attività di controllo del territorio hanno notato che un gruppo di persone si assiepava fuori l'attività per acquistare l'irinunciabile panino con la porchetta senza rispettare le regole per l'asporto, ovvero senza prenotazione telefonica online. I clienti dell'attività una volta acquistato il prodotto si sono dileguati consumando il prelibato panino nei pressi del negozio di quartiere. All'esito del controllo dei carabinieri l'esercente è stato multato con una sanzione di 400 euro e scattato contestualmente il provvedimento di chiusura dell'attività commerciale per soli cinque giorni.